devo arrivare a una certezza come faccio per arrivare a questa certezza devo applicare un metodo appunto applicando questo metodo metto in dubbio tutto io so che appunto la conoscenza arriva dai sensi ma questi sensi appunto ci ingannano e se solo una cosa è in dubbio la devo scartare quindi è tutto da scartare e non ho nessuna certezza non c'è nessuna certezza e qual è la prova più rarvante appunto i sensi ci ingannano questa prova sono appunto i sogni mentre noi sogniamo pensiamo che i fatti che viviamo che ci accadono siano reali in realtà stiamo semplicemente dormendo e quindi qual è l'unica certezza che possiamo ottenere l'unica certezza appunto di essere un essere pensante un cogito eros è finito ci sono le firme ci sono le firme ecco ci sono le firme ecco 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 ecco